No, noi la lista di Copernica non sa, mica. Come sarebbe a divuccio avere la lista di Copernica? E mi sciole. Ma appena poco, che sa anche leggere ora? Si, ascoltano anche, io c'ho da studiare, mi sciole. No, è un ce l'ho, mi dispiace, guardi. Noi libri scolastici, non ci sa le liste, capito? Cioè, ce l'avevamo un po' l'ho persa, avevi foglio, ho fatto un casino, un ce l'ho. E ho capito, ma a me... E mi sciole c'ho da studiare, capito? No, guardi, questo libro, cerca lei, non lo fanno... Non lo fanno più, capito? Non saprei neanche in due mandati, non saprei neanche... Da che parte li fa, mi pediti, va lì, va là, non lo so. C'ho da fare, mi scusi. Oh, ciao. Ciao, salve. E sento, una domanda, ma voi i libri usati li ricomprate? No, perché c'è il mio figlio, non l'ha smesso nella scuola. E gli voleva da via, gli voleva da indietro. Ah, no, 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 noi questo... Questo servizio non si fa, capito? Non mi dispiace. Che stai parlando di me? No, no. Ho sentito. No, e dicevo che è due ore, e cerco parcheggio per Firenze, e poi non c'hanno nulla. Se lo sappiamo andare a Prato, ai libroni. Ma in due rimane? E ci voglio andare anch'io, non c'ho un libro. Senti, ai libroni, e c'hanno le liste, delle medie, università e superiori. Hai fatto bene a dimmelo, allora vuoi lì, buona, cissi. In via Sardinando Valdazzi, c'hanno di ogni cosa, compro le liste, università, medie e superiori. No, 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 non lo sapevo. Allora, allora, ti fai conto, sono 50 e 90, e sono un po' un cartà. C'hai il resto, no? Io fai il resto. Sì. Aspetta, sono un... Mi sono un cartà. Sì. Ah, il libro, il libro, venga. Allora, che faccio un carto? Lo mangio qui o lo mangio a casa? Aspetti, ce ne vuole? Sì, venghi. Grazie. Arrivederci. Buona. Il librone a Prato. Compriamo e vendiamo libri usati, pagamento in contanti, liste delle scuole, libri per le medie scontati, fino a metà prezzo, superiori e università a 40% di sconto, osso. Ma poi è di una comodità che osso devastante. Via Ferdinaldo Baldazzi, osso a Prato, il parcheggio davanti, il lato mobile, osso, senza far la fila, senza far casino, senza trafio. Bucaioli, chi studia e cresce.